Un piccolo morto. 13 lunedì. Aveva guadagnato la medaglia la settimana scorsa. Voleva bene a mio fratello e gli aveva regalato un salvadanaio rotto. Mia madre lo carezzava sempre quando lo incontrava. Portava un berretto con due strisce di panno rosso. Suo padre è facchino alla strada ferrata. Ieri sera, domenica, alle quattro e mezzo, siamo andati a casa sua per far l'accompagnamento alla chiesa. Stanno al pian terreno. Nel cortile c'erano già molti ragazzi della prima superiore con le loro madri e con le candele. Cinque o sei maestre e alcuni vicini. La maestra della penna rossa e la del cati erano entrate dietro e le vedevamo da una finestra aperta che piangevano. Si sentiva la mamma del bimbo che si inghiossava forte. Due signore, madri di due compagni di scuola del morto, avevano portato due ghirlande di fiori. Alle cinque in punto ci mettemmo in cammino. Andava innanzi un ragazzo che portava la croce, poi un prete, poi la cassa, una cassa piccola piccola, povero bimbo, coperta da un panno nero, e c'erano strette intorno le ghirlande di fiori delle due signore. Al panno nero da una parte ci avevano attaccato la medaglia e tre menzioni onorevoli che il ragazzino si era guadagnato lungo l'anno. Portava alla cassa Carrone e Coretti e due ragazzi del cortile. Dietro la cassa veniva prima la del Cati che piangeva come se il morticino fosse suo, dietro di lei le altre maestre, e dietro alle maestre i ragazzi, alcuni dei quali molto piccoli, che avevano dei mazzetti di violi in una mano, e guardavano il feretro, stupiti, dando l'altra mano alle madri che portava le candele per loro. Sentì uno che diceva, e adesso non verrà più alla scuola. Quando la cassa uscì dal cortile, si sentì un grido disperato dalla finestra. Era la mamma del bimbo, ma subito la fecero rientrare nelle stanze. Arrivati nella strada incontrammo i ragazzi di un collegio che passavano in doppia fila, e visto il feretro con la medaglia e le maestre, si levaron tutti il berretto. Povero piccino, egli se ne andò a dormire per sempre con la sua medaglia. Non lo vedremo mai più, il suo berrettino rosso. Stava bene, in quattro giorni morì. L'ultimo si sforzò ancora di levarsi per fare il suo lavorino di nomenclatura, e volle tenere la sua medaglia sul letto per paura che gliela pigliassero. Nessuno te la piglierà più, povero ragazzo. Addio. Addio. Ci ricorderemo sempre di te alla sezione baretti. Dormi in pace, bambino.